Siamo dei fascisti Sicuramente l'estate è qualche ferito Ma per l'altra di noi? No, siamo stati per l'altra persona e allora è stato con cui abbiamo vinto contro la guerra E tra di loro non si sono scappati? Sì, sì, sicuramente Comunque però lo scontro c'è stato, cioè loro non li hanno sparato quando stavano Ma è affitto, ma qui è... Ma come si può rimarli in America 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 E già...